E' sotto gli occhi di tutti lo stato di degrado in cui versano le strade pubbliche. Tra buche e asfaltologoro di anni di usura non c'è automobilista che non si lamenti. E Chieti non fa eccezione, ma l'amministrazione comunale intende correre ai ripari, chiedendo ai cittadini di segnalare casi più urgenti. Sulla scorta delle informazioni raccolte e dopo attenti sopra luoghi, sarà il settore lavori pubblici e a stilare l'elenco delle priorità. Il sindaco Umberto Di Primio si rende disponibile a ricevere suggerimenti anche sui suoi profili social, Facebook e Twitter. Si, si è reso necessario assolutamente intervenire con un'attività straordinaria per rimettere a posto la maggior parte delle nostre strade. L'assessore Colantonio già aveva programmato insieme all'ufficio un piano per la sistemazione delle viabilità, ma le nevicate degli anni passati e comunque il deterioramento del manto stradale sta procurando problemi all'amministrazione che io voglio evitare e che quindi voglio soprattutto evitare ai cittadini di viaggiare su strade inadeguate. Quindi ho voluto questa riunione straordinaria, farò un piano straordinario di intervento, ho chiesto ai cittadini di segnalarmi le situazioni più importanti e interverremo subito, subito con un programma ampio di asfalti, ma anche con degli interventi immediati di sumorgenza per riparare le situazioni più gravi. Il piano di interventi già programmato non è sufficiente a far fronte all'emergenza, aggiunge il primo cittadino, che annuncia un intervento finanziario straordinario. È chiaro che questi interventi non sono interventi che erano già programmati, quindi richiederanno e hanno richiesto il riperimento di nuovi fondi, perché oltre mezzo milione di euro già erano stati destinati per la sistemazione delle strade, ma lo stato di degrado in cui si trovano ci costringe a trovare nuove somme, nuovi investimenti per sistemare le strade.